È stata un'opera abbastanza impegnativa sicuramente, però è stato qualcosa di necessario per ridare l'ustro a questo Tempio Mariano, che è il cuore pulsante e spirituale della Valdichiana. Il Santuario di Santa Maria delle Vertighe a Monte San Savino è pronto ad accogliere i fedeli per questi giorni di festa in attesa delle celebrazioni del 14 e 15 di agosto. La protettrice dell'autostrada del Sole sarà portata come sempre in processione fino all'entrata di Monte San Savino e poi la Santa Messa alla presenza del Vescovo Andrea Migliavacca. Quest'anno però il Santuario avrà una nuova luce e gli importanti lavori di restauro sono terminati da poco, un risultato dell'impegno di tutta la comunità. Devo dire che la gente ha raccolto il nostro invito perché lo slogan era prendiamoci a cuore il santuario, è un santuario millenario, la fraternità che lo sta zellando dal 2007 si è presa l'impegno di portarlo avanti perché c'è un desiderio di tramandare, conservare per tramandare e devo dire che la gente viene qua e in questo posto la gente è stata battezzata, si è sposata, ha seguito i propri defunti quindi è molto importante e in questo momento noi stiamo facendo di tutto e di più per poter portarlo a termine questo restauro, è stato un restauro importante perché si sono cambiate le travi del tetto c'è una pedana radiante con i nuovi riscaldamenti, consolidamenti, ci sono tanti lavori, manca il campanile ecco, è lui uno degli indiziati per cui va un po' come dire risistemato anche se non è diverso in grave condizioni, comunque stiamo andando avanti e siamo felici e noi invitiamo tutti a venire e ad essere solidali perché questo ovviamente è un patrimonio che dobbiamo tramandare e lasciare per i posteri. Monsignor Andrea Migliavacca è già venuto a Benedetto l'inizio dei lavori che sono partiti alla fine di gennaio e adesso ritornerà ovviamente per vedere questa nuova luce che emana il nostro santuario. La patrona dell'autostrada è proprio lei, Santa Maria delle Vertighe, quindi c'è una processione, 14 sera, si arriva fino al casello dell'autostrada viene chiuso, il vescovo benedice l'autostrada e si ritorna in qua per la messa pontificale, è un evento molto bello. Poi ci sono tanti eventi in questo mese di agosto che sono tutti eventi che servono quindi alla beneficenza, è tutto pro santuario. Quindi io invito tutti a poter partecipare a tutti gli eventi e ad aiutarci in questo lavoro impegnativo ma direi emozionante e esaltante perché poter aiutare, non aiutare, poter sistemare nel meglio questo santuario è veramente entusiasmante, è qualcosa di bello. E come vorreste che lo vivessero i fedeli non solo dalla Valdichiana, Aretina o Senese ma anche da altre zone? Certo potrebbe essere interessante il venire qua perché il santuario oltre alla parte spirituale che è la più importante ha anche delle opere d'arte importanti, la pala del Margherito d'Arezzo che è stata fino adesso in esposizione al Museo di Arte Medivale d'Arezzo. È stata un'occasione anche perché è entrata in un circuito internazionale di restauratori che si sono confrontati perché altre opere del Margherito sono, se non ricordo male, al British Museum di Londra, comunque sono opere importanti. Quindi è entrato in un circuito per cui attirerà anche studiosi che vengono dall'estero. Poi ci sono gli affreschi del Porta, c'è il crocifisso di Lorenzo Monaco che è forse anche uno dei pezzi più importanti già visitato anche da Sgarbi. Quindi ci sono delle cose belle da vedere. Qui cosa c'è? Arte, cultura e fede.